Il rischio che i reati cadano in prescrizione non è dettato da pura fantasia, se si pensa che la celebrazione del processo per il crack della Banca Popolare è rinviato a data da destinarsi. Il problema riguarda gli spazi da adibire ad aula di udienza e gli oltre 2.000 azionisti assistiti da 250 avvocati. Una folla enorme, quasi da stadio nel procedimento di falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza, che vede sul banco degli imputati Marco e Gianluca Iacobini. Aule così grandi non ce ne sono, tramontata l'ipotesi della multisala Showville dopo le verifiche effettuate dal Ministero della Giustizia. Ostacoli burocratici dicono sebbene fosse stato raggiunto un accordo sul canone di locazione, decisamente più economico rispetto a quanto richiesto dalla Fira del Levante. Di qui il rinvio dell'udienza, prevista il 15 febbraio, che slitterà a marzo, ma solo fosse in presenza di una sede idonea, considerando il numero crescente di parti civili che a settembre superava quota 1.500. Fra le ipotesi è anche il tentativo di risolvere il problema degli spazi attraverso la rotazione dei legali per delega e dunque di avere in aula 27 avvocati in rappresentanza di 192 colleghi, tra questi molti rappresentanti delle associazioni di categoria, operazione che non è andata a buon fine e che ha costretto i giudici al rinvio d'ufficio. Di questo passo, dicono i rappresentanti delle associazioni, bisognerà porsi il problema della prescrizione dei reati. La caccia allo spazio giusto è ricominciata e si riaffaccia all'ipotesi del centro congressi della Fira del Levante. Problema analogo per altri processi relativi alla Banca Popolare di Bari, come quello aggiornato al 30 marzo ma che subirà un ulteriore rinvio e che vede tra gli imputati Gianluca Iacobini e altri dirigenti dell'istituto bancario per le operazioni baciate. Anche in questo caso gli azionisti potrebbero chiedere la costituzione di parte civile riproponendo il problema degli spazi.